Siamo arrivati al cuore di questo corso, il negoziato integrativo. Possiamo dire che tutto quello che abbiamo fatto fino adesso, dal conflitto alla competition, alle tecniche distributive, alla gestione delle obiezioni, è la premessa, è la parte, come posso dire, di salita rispetto a una collina che poi mostrerà la sua parte di discesa, che è rappresentata proprio dalla sezione sul negoziato integrativo. Perché per me è così importante questa sezione? Perché la logica, e questa è una logica che, visto che mi seguite dall'inizio, avete ormai imparato a conoscere, è una logica che mi porta a dire che il negoziato è positivo quando vincono entrambe. Quindi il negoziato non è un negoziato per la vittoria, ma è un negoziato per la vittoria di entrambe. Quindi il negoziato per la vittoria sì, ma di entrambe, altrimenti è un negoziato che si svolge secondo delle dinamiche che sono competitive. E quindi noi andremo a vedere cosa fare per far sì che le parti escano soddisfatte. Non posso dire sempre nello stesso modo e con accordi che magari soddisfano allo stesso modo le parti, ma ci permette anche di poter dire che io esco dal negoziato e ho raggiunto dei risultati. Questo è comunque importante perché in effetti questa è un po' la logica, se volete, della negoziazione. È impossibile pensare di poter negoziare non facendo ottenere nulla al nostro interlocutore. L'importante è che quello che otteniamo rientri tra le cose che avremmo voluto ottenere al tavolo dei trattativi. Allora, in questo modo, noi potremmo dire di aver soddisfatto gli interessi. Cosa sono gli interessi? Ovviamente ne parleremo appunto in questo capitolo. Cosa andremo a vedere quindi in questo capitolo? Parleremo di quelle che sono un po' le posizioni, cioè le cose che dico di volere, ma queste contrastano gli interessi, che sono le cose che voglio realmente. Vedremo anche, parleremo anche di alcuni aneddoti, un po' tratti dalla dottrina, un po' tratti ovviamente anche dalla mia esperienza, rispetto a quelle che sono delle situazioni tipiche all'interno del negoziato. Poi vedremo anche delle scene di film e riprenderemo quella che è la metafora dell'iceberg di cui abbiamo parlato nel conflitto, ovviamente contestualizzandola in modo diverso. Insomma, tanta roba per andare a spiegare nel dettaglio quello che è il tema, che è il macro tema di questo corso, il negoziato, come negoziare sulla base di misure che sono assolutamente integrative e a beneficio di entrambe le parti.